Siamo con mister Cangiano, brutta sconfitta per il Palestrina eppure avete cominciato bene, i primi dieci minuti la partita la stavate facendo voi, poi? Poi si è spenta la luce, penso che oggi è stata la partita più brutta della mia gestione, meritata la vittoria dell'Anzio Lavinio, oggi eravamo sulle gambe, non siamo stati capaci di reagire e quindi, ripeto, vittoria meritata dell'Anzio Lavinio. Soprattutto direi che è il reparto offensivo quello che ha funzionato di meno, che è di solito la parte vostra migliore, no? Per me oggi non è funzionato niente, non c'è stato niente che è andato bene, se devo salvare qualcosa di oggi non salvo niente.